Bella ragazzuoli, se avete letto bene, abbiamo registrato proprio un video di Among Us Tra l'altro siamo anche in compagnia di Tuberanz all'interno del video Con il quale ho giocato appunto in serata sul sito Viola i streaming con i suoi sub Vi ricordo infatti ragazzi che ormai ogni sera anche io sono i streaming sul sito Viola Andate in descrizione nella sezione live streaming per guardare anche le mie live E intanto ragazzuoli io vi lascio al video Sono stato un buon round Oh povero Conan, stasera o stasera giocavo Eh ragazzi, è sgamato, cioè è stato pallisse Perché non lo ammazzi davanti Fortu? Matti lo vuoi ammazzare, sta entrando Cristo Vuoi ammazzarlo, ha sbagliato, l'avrebbe dovuto ammazzare Sono tranquillo perché ho detto vabbè lo ammazzo io, nel peggiore dei casi lo spotta qualcun altro Cioè easy Ok, rip Matti, però una domanda Matti, avevo ammazzato una Cristo Santo di persone in navigation Ne stava entrando un altro, la ammazzi Madonna Peppe, questo impostore sei il primo che more Io vado subito in elettrico, ma proprio diretto Senza pensarci un secondo che io dopo in elettrico non ci voglio tornare Mango, se mi pagano, ciao Ah, è tripla Io ho il kind, ho il kind safe Primo, perché quando è stato chiamata la cosa del reattore, tu eri andato completamente dalla parte opposta e ti abbiamo incontrato io? Perché io pensavo che qualcuno avesse ammazzato dalla parte di, come si chiama, dalle security E quindi si è andato a controllare, per vedere se c'era qualcuno di vicino E il morto dov'era? Kindè? Kindè se non ti difendi ti dobbiamo espedere Kindè? Come effetto al latte? Kindè uno Però era, era l'unico che mi ispirava, vabbè niente, ciao dopo Eh no raga, ma la kindè non era Però, Tube fa sempre queste cose, no? Che mi ispira proprio l'assassino Cioè non è impossibile Oh, mi fa incazzare Cioè sembra che muo' è Tube L'altra volta Eh, cavolo, devo capirlo Sì, ma è Tube, è evidente Cioè sì, concordo decisamente ragazzi, secondo me è Tube Cioè perché far buttare fuori una persona con così tanta noscialanza? Ok, non stava parlando, quindi per la live ovviamente deve far stare solo persone che parlano Ma se fossi stato io avrei aspettato giusto per non stare già così svantaggio No, vabbè, me la faccio la goal Vabbè, aspetto che fanno le lasche Se era entrato mi sembra Tube Eh, non è più uscito, ehm Credo che sia entrato in un tombino Cioè scusami Quindi perdonami, perdonami E secondo te, se io fossi l'impostore Vedo te che sei nei paraggi Prendo la botola e non esco da quella parte lì che è l'unica uscita Cioè ora ho capito che magari posso sembrare a volte scarso Ma così tanto è No, per come parla è lui, dai Il corpo è stato trovato in security Raga Io, io prima l'avevo visto Non ci sono stato Che volta Tube Vince Ciao primo Guardalo un po' Oppela Tube è perso Allora ragazzi, vi dico subito Vi dico subito Eravamo tre morti Eravamo tre morti E Tuberanz ha voluto sacrificare il Kinder perché non parlava Ora quello che volete voi Ma Tube non è stupido Non ammazza una quarta persona dopo tre persi Cristo Hai davvero passato ai tombini? No No, no No, veramente stava in navigation e mi ha ammazzato Mi ha ammazzato in navigation Esatto, io ho ammazzato forte in navigation Ok, ti è iniziata No, no, no Stiamo ad aspettare il codice Ok Dai Andiamo un attimo di Di fare qualcosa qua Che già stiamo messi tutti mal C'è un suo capeno, niente Andare già stacco Così? Vediamo bene Ah, io ora sto qua Non mi interessa Sto tranquillamente Però dovrei uscire Ovviamente dovrei uscire in realtà Giacomo, passa a chi lato là? Ti amo frate Scia misera Ora il gioco se ne va Così me ne posso andare Giacomo, vattene Madonna Dai Giacomo Crescente con la santa vina Giacomo Mi riesco a morire Non essere reactor meltdown Dove? Raga dove? Allora Tu beh? Sì Ok Lo so che hai trovato il corpo Però io sono entrato in electrical Non ho visto e te l'ha ucciso Io non accuso niente Però ho visto solamente te arrivi davanti al corpo Mi hai visto Questa è la mia interpretazione Mi hai visto e hai riportato il corpo Ok calmo Chi lo sta dicendo Tube Vabbè strano Però chi lo sta dicendo FBI FBI Ok FBI Ma perché tu Vuoi parlare prima di me Che ho riportato il cadavere? Allora io ho una teoria Caro FBI E lo sai qual è la mia teoria? La mia teoria è la seguente L'assassino L'assassino torna sempre sul luogo del delitto Bah io non credo proprio Detective Conan Non credo proprio Venite con me dove si vede le foglie Ok giù in fondo E uno venga con me Uno venga con me lo vede Però non so se si può fare così Sì è che tu spoti Però vabbè Io non mi dico niente Però va niente Ci fidiamo Vai FBI Vengo pure io Non mi riesco a ricalibrare col tempo Ammazzare qualcuno Primo tu Beh subito Subito devo ammazzare Avevo una facilità incredibile Nascia la misera Ma sto primo come sta in goal Ma che Ragazzi credo che mi abbiate salvato da una kill di primo Mi sta chasando da mezz'ora Io non voglio accusare Ok Però Mi stai chasando in maniera scandalosa Io posso dirvi che primo ed FBI sono safe No ma siamo andati in quattro a controllare FBI Stavamo io Te primo E ci troviamo Solo che Primo poi mi ha iniziato a chasare In maniera inquietante Vabbè Ok No fra io stavo nell'angolo in alto a sinistra A fare il wifi E sono rimasto là E come mai si scomparso Non sono scomparso Sono scomparso dalla tua visuale Ma di certo non ti prendevo la botola davanti Se ero impostore Raga Raga urgentissimo Raga Urgentissimo E nel mentre Nel mentre raga Volevo ancora anche dirvi Che adesso faccio un piccolo controllo rapido Faccio un controllo rapido Perché questa cosa ve la devo dire Beh raga E a questo punto è schifo Comunque Beh fatti si sa Che tube ha preso un botto Un botto di tempo Cristo santo Se se ne va a tube Madonna Io me lo chiudo dentro Non si può chiudere Fammelo chiudere E all'anime di chi te c***o Why you Fex Scandaloso Me l'ha ucciso davanti C'è scandalo Tutti sul viola Tutti sul viola E il viola Ragazzi Giuro sulla PS5 Che ho preordinato Ci perdo 500 euro No Giù Devi dire Giuro Sulla PS5 Ma vai Che non sono stato io Che non sono stato io Dai Lo stai giurando? Ma raga fate in fretta Votare Thanks Madonna Prima Prima Se qualcuno mi ha ascoltato Ho detto che Forto aveva preso la botola Ma cosa dici? No L'aveva detto primo Bru è zingano Dai Vai Si è offeso No E senza roba Non eri l'impostore Fex? Non me ne andare subito Ti prego Cristina Di quella santa Vena Ok ragazzi So sicuro Che è zingano Perché Kinde Dove l'ha trovato il corpo? Ok È zingano Perché Io ho visto Letteralmente Iaco che andava a destra E davanti a Iaco C'era zingano Io poi non ho visto Più nessuno uscire Nemmeno zingano In questo caso Il Kinde È andato a destra Perché l'ho visto passare Da caffetteria E ha trovato il corpo a destra Per me Sta parlando Kinde È giusto? No No FBI scuola Solo che ragazzi Se siamo in due Ancora abbiamo perso Eh vabbè ragazzoni Questa Piazze 5 Mi sa che mi arriva proprio rotta Mi sa che mi arriva proprio rotta Era forti Era forti Era forti Eh tu beh Questa vittoria necessitava 500 per me È proprio schifo Cioè Ma io ve l'ho detto Tu forti Tu forti Hai avuto il coraggio Di giurare Sulla madre PlayStation 5 Che non eri tu Cioè ma per me È peggio di Cioè per me è peggio Di aver giurato Su tua mamma Ma questa è una vergogna Forti tu ti meriti Di schienge Ciao 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 Ciao